Ciao 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 a tutti ragazzuoli, sono Petro Greltanche e questo è un novissimo video che faccio, questa volta per dirvi che torno a fare video ragazzi. Allora, ve l'avevo già annunciato che sarei tornato dopo l'epifania, sarei tornato dopo la sessione d'esame, che è finita, ma non sapevo neanche io quando avrei ripreso a fare i video, infatti ci ho messo ben tanto tempo a tornare. Ma vi dico che sono pieno di buoni propositi, perché ho deciso di fare una scaletta e adesso vi dico il tutto. Partiamo dicendo che qua in alto c'è il vostro sondaggio dell'ultimo video che vi metto qua in alto, dove mi dite qual è la vostra preferenza di video da portare e come potete vedere risulta che Minecraft è il vostro video preferito, il vostro tipo di video preferito. Di conseguenza lo porterò una volta a settimana la serie nella terra di Steve, quindi la serie principale del canale. Spero che vi faccia contenti, inoltre non smetterò di portare FIFA, minimamente, finirò di sicuro la stagione con la spalla, quindi vedrete una volta nei due settimane anche la puntata su FIFA 18, sulla serie professionale allenatore. Dopo aver finito la prima stagione, in base ai rendimenti della serie e al vostro apprezzamento, deciderò se continuare o smettere di portarlo. Mentre per quanto riguarda la programmazione in senso stretto vi dico che il lunedì porterò un video diverso dalla serie nella terra di Steve, che può essere le Bad Wars, che può essere i minigames in generale, quindi anche le Build Battle, che può essere un video di Fortnite, che mi avete chiesto in tanti, che può essere FIFA, che può essere un video di un altro gioco, che può essere un video della serie Giochi Bizzarri, che devo pensare che video portare, o può essere un vlog o un video di varietà, non si sa. Il lunedì è il giorno dedicato ai video che non sono nella terra di Steve, mentre il venerdì, che in base a delle statistiche ho capito che il giorno in cui guardate più video, perché magari finisce la scuola, infatti lo metterò circa alle 3 del pomeriggio, voi uscite da scuola e andate a vedere il video, tutti contenti perché arrivate un weekend. Però vi dico una cosa, vi chiedo di essere indulgenti nel momento in cui magari non riesca a portare due video a settimana, o magari nel momento in cui salti una settimana intera, o salti una volta alla serie nella terra di Steve, perché essendo, come sempre, come da video iniziale vi avevo detto, lo metto anche questo qua, essendo un studente universitario io devo di necessità dare una precedenza allo studio, ok? Di conseguenza soprattutto magari in una fase d'esame porterò meno contenuti, magari un video a settimana, un video ogni due settimane, non lo so neanche io e mi spiace di questo, cercherò sempre di restare al passo, ma non è facile. Perciò ragazzi, prima di concludere vi chiedo un'ultima cosa, fatemi sapere se ci sono delle migliorie che vorreste suggerirmi, non necessariamente sui video da portare o non portare sui giochi che devo portare, sui tipi di video, anche su quello, se volete fatelo, ma non solo su quello, sulla qualità del canale, su magari l'aspetto del canale, su qualcosa che secondo voi è arrivato il momento di cambiare, di togliere, di fare e disfare. Ad esempio una cosa che voglio fare, che voglio migliorare, è il microfono che voglio comprare, perché quello che ho già non è sufficientemente di qualità e questa è una miglioria che di sicuro farò. Però se c'è qualcos'altro che volete dirmi, fatemelo sapere nei commenti o nel sondaggio che vi metterò qua sopra e io sarò più che contento di prenderlo in considerazione. Per il resto io vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e a supportare questo canale, magari scrivendovi e tutto quanto. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video e spero di potervi trovare anche nei prossimi. Vi auguro una buona continuazione e ciao ciao belli, ciao ciao!